La capacità di raccontare bene una storia può letteralmente trasformare la tua vita, può farti trovare un lavoro, emergere in un primo appuntamento o essere ciò che fa la differenza nel tuo business. Oggi ho un breakdown molto particolare sullo storytelling, non solo perché la narrazione è importante nella vita, ma perché farò da intervistatore a una delle persone che ammiro di più su questo pianeta. Il suo nome è Scott Harrison, fondatore di Charity Water, ha contribuito a raccogliere oltre 100 milioni di dollari raccontando storie per una buona causa. Ora andremo a sentire la sua storia così da comprendere al meglio ciò che fa. Noi non possiamo immaginare 663 milioni di persone senza acqua pulita, quindi quello che stiamo facendo intenzionalmente da oltre 11 anni è raccontare storie di singole persone, raccontare la storia di uno dei 663 milioni di nomi, volti, speranze e sogni. Quindi in questo video imparerai tre dei principi più importanti che ti aiuteranno a raccontare storie più coinvolgenti in qualsiasi ambiente. Ti avverto, le storie raccontate in questo video sono molto pesanti, contengono messaggi davvero davvero tristi, ma importanti e necessari quando si parla del motivo per cui Charity Water esiste. Inoltre lascerò scorrere la clip un pochino più a lungo, in modo da poter ascoltare una parte più ampia della storia senza interruzioni e poi commenterò più tardi. Eccoci qui. Mi è capitato di trovarmi in una camera d'albergo da 5 dollari a notte in Etiopia. Ero con alcuni volontari, un piccolo gruppo. Ero seduto nella cucina di questo hotel e riconobbi il proprietario, in quanto avevamo lavorato insieme in questa regione qualche tempo prima. Lui mi nota, si siede vicino a me e inizia a raccontarmi la storia di una donna che viveva nel suo villaggio, in una zona remota di circa 3000 persone. Mi disse che tutte le donne erano tenute a camminare per raccogliere acqua per otto ore al giorno e dovevano farlo con questi pesanti vasi di terracotta portati sulla schiena. Mi disse Un giorno una di queste donne del mio villaggio, di nome Letuceris, di ritorno dal pozzo, cade e rompe i vasi. Tutta l'acqua si riversa nella sabbia. Ancora mi disse Piuttosto che tornare indietro e prendere altra acqua, decise di impiccarsi. Abbiamo trovato il suo corpo oscillare da questo albero del nostro villaggio. Poi mi ricordo che si è fermato a guardare l'effetto della storia su di noi e ha detto Il lavoro che stai facendo è importante. Continua così. Subito dopo, ritorno in cucina. Ovviamente questa è una storia straziante. Ma ecco cosa possiamo imparare. Un principio importante della narrazione è che quando racconti una storia in prima persona, nel senso che parli di te stesso, porta l'ascoltatore nel tuo stesso viaggio emotivo che hai vissuto. Così Scott racconta la storia di questa pausa del locandiere, in questo momento, perché è necessaria per far assorbire all'ascoltatore alcuni concetti. Mentre continua, parla anche della sua risposta emotiva e dice che ha dubitato della verità di questa storia proprio come potrebbe fare l'ascoltatore stesso. C'è sempre la tentazione di saltare avanti e andare subito al termine quando sta raccontando delle storie, e questo per dire all'ascoltatore che cosa hai imparato alla fine di tutto. Ecco, non farlo. Se rallenti e porti le persone nello stesso viaggio a spirale che hai perseguito, risulterà molto ma molto più efficace. Guarda un esempio. E ricordo che ero seduto lì con un gruppo di cinque persone ed eravamo tipo... Cosa? Hai la sensazione di essere stato colpito da una tonnellata di mattoni ma poi inizi a dubitarne. Questa storia è davvero vera? Magari ha voluto raccontarci una storia triste per farci sentire bene per il lavoro che stiamo facendo. Ma non riuscivo proprio a cancellare quell'immagine. Quella foto di una donna che scivola, cade, sai come... Come capita a tutti, come tutti noi abbiamo fatto. Ma così disperata, nelle sue condizioni di vita, da legarsi un cappio al collo, arrampicarsi su un albero e lasciarsi cadere. Ho mandato alcuni nostri collaboratori nel villaggio, ho detto andate e ditemi prima di tutto se qualcuno di nome Letuc ha effettivamente vissuto lì e se sta storia è vera. Un paio di settimane più tardi ho ricevuto una mail da uno dei nostri partner che diceva Sì, siamo andati nel villaggio e purtroppo è una storia vera. Abbiamo visto la tomba, abbiamo incontrato la famiglia. Allora ho detto a mia moglie, voglio andare a stare lì per una settimana. Voglio fermarmi qui perché c'è un altro grande punto narrativo che sta succedendo. Ogni storia ha bisogno di un elemento quasi costante di mistero per mantenere l'attenzione dell'ascoltatore. È necessario sollevare costantemente domande nella mente degli ascoltatori e ogni volta che risponde una di queste ne deve apparire una nuova se ha intenzione di mantenere la loro attenzione. Scott suscita subito un po' di mistero proprio chiedendo La storia di Letuc è vera? Abbiamo scoperto che stava risolvendo quel mistero ma immediatamente sollevato un'altra domanda nella mente degli ascoltatori. Che cosa succede quando Scott si recchia in Etiopia? Quindi vediamo come si svolge. Per farla breve, sono andato al villaggio. Ho vissuto lì per una settimana, ho incontrato il prete che le ha celebrato il funerale, ho visto il mucchio di rocce dietro la chiesa che era la sua tomba, ho incontrato sua madre, ho incontrato l'amica che camminava con lei quel giorno, ho visto l'albero e ho finito per scrivere su Medium questa esperienza. Ho notato quanto fosse fragile quell'albero e scoprì che Letuc aveva solo 13 anni. È stato un grande shock per me. Mi aspettavo una vecchia signora e stavo quasi immaginando questa donna ingobbita di 60 anni che aveva camminato per l'acqua per tutta la sua vita. Invece era una ragazzina di 13 anni, un adolescente. E ricordo, tutto questo attraverso i traduttori, chiese alla sua migliore amica come abbia potuto arrivare a tanto e impiccarsi. E la sua migliore amica mi disse Beh, sarebbe stata sopraffatta dalla vergogna perché ha rotto un vaso di argilla e ha versato l'acqua nella sabbia. Questa è l'azione principale della storia, ma non finisce qui perché le migliori storie hanno la morale alla fine. Un po' come nelle favole, c'è un punto dominante che è condiviso esplicitamente. È necessario avere in mente l'obiettivo che hai nel raccontare questa storia. Al termine di essa lo dovrai comunicare. Che cosa il pubblico dovrebbe portarsi a casa della tua storia? Ecco cosa Scott pensa che dovremmo imparare dalla storia di Letuc. Questa è un'emergenza, giusto? Bisogna fare qualcosa per cui le ragazzine di 13 anni non si impicchino sugli alberi, perché non hanno acqua e perché hanno rotto un vaso di creta. La prima volta che ho sentito Scott raccontare questa storia, la lezione mi è rimasta molto impressa. Mi ha ispirato a donare a Charity Water ed è il motivo per cui sono collegato a Scott in primo luogo. Fai il punto della situazione alla fine della tua storia, non lasciare semplicemente le persone sospese. Di loro il motivo del racconto e se c'è qualche azione che potrebbero fare, diglielo. Ad ogni modo, quest'ultima storia è emotivamente commovente. È un modello fantastico per raccontare la storia di un prodotto o di un'idea imprenditoriale. Ecco come Charity Water ha avuto l'idea di donare i compleanni. Ci siamo imbattuti in questa idea di chiedere alle persone di donare i loro compleanni. E i compleanni sono diventati molto commerciali. Un sacco di aziende oggi traggono profitto quando un ragazzo come te compie 30 anni. Probabilmente c'è un grande segno di commercializzazione. Oggi si usa il digitale, come iTunes, Amazon, ma prima si trattava di donare portafogli, cravate, calze. Potresti avere ancora un sacco di cose che non vuoi e che non ti servono, davvero. Scott inizia impostando la struttura del problema. E se stai raccontando storie per la tua attività o per il tuo prodotto, è qui che devi iniziare. La maggior parte delle persone, quando stanno parlando, vogliono andare subito a parlare di quello che fa il prodotto. Questo è sbagliato, perché se non c'è una necessità, non abbiamo bisogno di una soluzione. Quindi inizia con il problema che il tuo prodotto risolve, in modo che l'ascoltatore può identificarlo. In questo caso, Scott sostiene che la gente spreca tantissimi soldi per i compleanni. Stabilito questo problema, continua sulla sua idea per la soluzione. Abbiamo detto, guarda, oggi 660 milioni di persone non hanno acqua pulita. Possiamo iniziare un movimento per cui ai compleanni, invece che chiedere regali, chiedi una corrispondenza di denaro pari alla tua età. Denaro che infine donerai, trasformando la tua festa di compleanno, anche in una festa di carità. Ora abbiamo la soluzione. Invece di ricevere un sacco di cose che non ti servono per il tuo compleanno, dona. Sembra fantastico, ma manca ancora qualcosa e questa è la storia di una persona. Questo perché il nostro cervello non è cablato per elaborare numeri o idee estratte con la stessa intensità emotiva in cui elaboriamo la storia di una singola persona. È qui che le persone si commuovono. Ora non interromperò più l'intervista per dare il pieno effetto della storia. Ero a Seattle. Un hipster e giovane pastore ha organizzato una grande festa di botti, per la quale ha raccolto 500.000 dollari dalla città. Sono uscito per ringraziare la chiesa e alla fine ho chiesto a tutti, forse a migliaia di persone, di donare il loro prossimo compleanno. Una ragazzina di otto anni, Rachel Beckwith, era nel pubblico e decide di donare il suo nono compleanno, il quale sarebbe stato solo poche settimane dopo. Quindi salta i regali, salta la festa e chiede 9 dollari da tutti quelli che conosceva e riesce a raccimolare 220 dollari. Il suo obiettivo era quello di 300 dollari, quindi disse a sua madre che era dispiaciuta dal fatto che non avesse raggiunto il suo obiettivo e che avrebbe provato più duramente il prossimo anno. Poco prima del suo compleanno, io mi trovavo nella Repubblica Centrafricana. Fondamentalmente, mentre ero lì, Rachel è stata uccisa in un terribile incidente d'auto. C'era un accumulo di 20 auto sulla statale e un camion con rimorchio ha perso il controllo. Lei è stata l'unica vittima. Era nella parte posteriore della macchina, sua madre era nella parte anteriore, anche sua sorella era nella parte anteriore e il camion è entrato nella parte posteriore della macchina, schiacciandola. Mi ricordo che appena atterrato a New York guardai il mio telefono e ricevetti un messaggio dal pastore e dalla madre che parlava di questa tragedia. La famiglia voleva riaprire la campagna e dare alle persone la possibilità di onorare l'ultimo desiderio di Rachel donando 9 dollari. Quindi, puoi immaginare come una storia come questa inizia a diffondersi nella comunità e la gente inizia a donare 9 dollari. Poi inizia a diffondersi nella comunità di Seattle inizia a diffondersi in tutto il paese, attraverso l'Europa, giù in Africa. Le stesse persone in Africa hanno iniziato a donare 9 dollari per aver sentito parlare di una bambina di Seattle che voleva che le persone in Africa avessero acqua pulita come regalo di compleanno. Per farla breve, circa 60.000 estranei donarono 9 o più dollari e Rachel, dopo essere passata miglior vita, dai 220 dollari che aveva accumulato arriva a 1,3 milioni di dollari avendo un impatto su oltre 35.000 persone. Mia moglie ed io abbiamo deciso di incontrare la famiglia di Rachel, sua madre, i suoi nonni, il suo parroco nel primo anniversario della sua morte. Esattamente un anno dopo abbiamo deciso di andare insieme in Etiopia, di villaggio in villaggio, per vedere tutte le persone che erano state effettivamente aiutate e fornite di acqua pulita. Qualcosa che è passato dall'intangibile al reale. Non dimenticherò mai quel viaggio. Successo ormai 5 anni fa. La cosa bella, ora, è che le persone che hanno donato 9 dollari alla campagna di Rachel non solo hanno dato soldi, ma sono state ispirate a donare il proprio compleanno. Ora hanno raccolto oltre 2 milioni di dollari, quindi Rachel è passata da una campagna da 200 dollari a un ammontare di oltre 3 milioni di dollari, con un impatto su oltre 100.000 vite. E poi, naturalmente, Scott termina con la morale. Come possiamo dare un senso a tutto questo? Ecco il potere di una storia, la storia di una bambina che parla di valori, valori di purezza di cuore nel considerare gli altri come esseri altrettanto importanti. Sembra facile, no? Siamo ben consapevoli della crisi idrica. Cosa possiamo fare a riguardo? Le persone non hanno acqua. Perché i bambini bevono dalle paludi se posso farci qualcosa donando il mio compleanno? Quindi ricorda questi tre punti quando racconti una storia, perché, come ho detto, le storie raccontate in questo modo hanno avuto un enorme impatto su di me personalmente e hanno letteralmente influenzato buona parte del mio tempo, energia e denaro. Ora mi capita di avere un giorno molto speciale in arrivo e ho un messaggio per te. Il giorno speciale che mi viene in mente è il mio compleanno e tra pochissimi giorni. Giovedì compirò infatti 30 anni. Sì, so di essere estremamente vecchio ed è una cosa che mi turba, ma sono anche davvero molto eccitato per questo compleanno perché è speciale in quanto posso donarlo a Charity Water. È la prima volta che lo faccio, sono eccitato da mesi. 30 dollari è la quantità di denaro necessaria per garantire acqua pulita per anni e anni ad una persona. Quindi quello che sto cercando di fare è raccogliere 30.000 dollari che doterebbero mille persone di acqua pulita. Sarebbe il più grande regalo di compleanno che potessi farmi, ma anche qualcosa di davvero fantastico da fare se vuoi donare. Qui sotto troverei un link nella descrizione per donare. Il compleanno di Ben era in agosto. Entrambi abbiamo compiuto 30 anni, apprezzeremo davvero il gesto. Saremo francamente onorati se voi vi uniste a questa nostra raccolta fondi. Qualsiasi somma che potete dare è super apprezzata non solo da noi, ma soprattutto dalle persone che ricevono effettivamente l'acqua pulita. Inoltre ecco qualcosa che dovrei condividere con te. È fantastico, abbiamo un link qui sotto se vuoi donare anche tu il tuo compleanno. Anche se il tuo compleanno non è nelle vicinanze, puoi andare al link qui sotto, lasciare il tuo nome, lasciare la tua mail e il tuo compleanno, che potrebbe essere ad esempio il prossimo giugno. Riceverai un'email di conferma da Charity Water. A questo punto potrai iniziare a raccogliere i fondi. La persona media riceve 1000 dollari da 15 dei loro migliori amici e parenti, che è una cosa incredibile. La sensazione che ho ancora prima di iniziare questa campagna è meglio di qualsiasi altro compleanno che abbia mai passato. Spero che voi ragazzi decidiate di unirvi a noi in questa raccolta di fondi. In ogni caso sono davvero riconoscente dal fatto che sto compiando i 30 anni e ho questo canale dove condividere le cose che sto imparando, i modi in cui sto crescendo. È incredibile e non riesco a trovare le parole, il che non è qualcosa di normale per me. Spero che tu decida di unirti a noi nella raccolta fondi e ovviamente quando ci vedremo nel prossimo video. Ricordati che avrò 30 anni. Prima di salutarvi voglio lasciarvi con un video bonus estratto direttamente dalla Carisma University. Parla di come fare una buona prima impressione. Infatti non molti lo sanno che esistono 4 emozioni da controllare e suscitare nell'ordine corretto. Vi lascio in descrizione il link che vi porterà su una pagina di registrazione dove dovrete lasciare semplicemente la vostra mail per vedere il video e per registrarvi al nostro gruppo segreto su Facebook dove troverete tanti appassionati di self-improvement. Ciao ragazzi ci vediamo nel prossimo video.